Il nostro obiettivo è quello da un lato di portare avanti un'attività di carattere culturale, quindi con la presentazione di libri, di convegni, dall'altro lato di stimolare un dibattito di carattere anche politico sul territorio portando alla cittadinanza e in particolare anche quelli che sono i partiti di centro-destra determinati non solo valori ma anche problematiche che vive il territorio con un'ottica sempre però propositiva, quindi anche con proposte per migliorare quella che è la vita dei cittadini sul singolo territorio. Un'associazione come ha detto lei vicino a quella che è l'area di centro-destra, l'Abruzzo governata dal centro-destra, di che cosa ha bisogno per riconfermarsi magari? L'Abruzzo è una regione governata dal centro-destra che sta facendo un importante lavoro grazie a quella che è la giunta a Marsilio, ci sono anche altri importanti città, capoluoghi di provincia e non solo che sono governati dal centro-destra, è chiaro che la sfida principale da qua ai prossimi anni sarà anche intercettare quelle che sono le risorse del PNRR che dovranno essere spese sul territorio per cercare di portare avanti delle iniziative anzitutto di carattere infrastrutturale che sono fondamentali per la ripresa economica e poi è importante anche guardare a quelle che sono degli snodi di carattere imprenditoriale che riguardano tante piccole imprese del territorio abruzzese che in particolare negli ultimi mesi e negli ultimi anni, soprattutto dopo il Covid, vivono un momento di difficoltà. Dal nostro lato come Nazione Futura vogliamo però porre anche l'attenzione sulla necessità da qua ai prossimi anni di continuare nella costruzione di una classe dirigente che è un aspetto estremamente importante e la nostra associazione vuole proprio portare delle nuove figure in ambito giovanile e non solo che possano dare un contributo a quella che è la classe dirigente del futuro abruzzese del centro-destra. In Abruzzo ci sono tutti gli ingredienti per far sì che questa associazione possa comunque continuare il suo lavoro? L'Abruzzo è un terreno veramente fertile nell'ambito della cultura di centro-destra e pensiamo appunto anche attraverso lo sviluppo che sta avendo l'associazione a livello regionale di poterci consentire appunto di dire la nostra parola e di sostenere attraverso Nazione Futura questo pensiero conservatore che si sta formando anche a livello nazionale ed europeo.